Cici Wawa, adoro il giorno della pizza! Oh, deve essere la consegna! Torno subito! Che giornata meravigliosa! Oh no, non può succedere! No! È il momento peggiore possibile! Ho bisogno di un po' di sangue fresco ora! Ciao, consegna pizza! Ah, questa è la mia occasione! Dai, aprite! Ah! Cosa sta succedendo? Ciao! Attenzione! D'ora in poi sarò io a gestire le cose qui! Cosa? Sì, avete sentito bene! Dani e io siamo sposati! E ci amiamo tanto! E ora è tutto mio! Che tu lo voglia un altro! Com'è potuto succedere? Tesoro, porta via quella tizia! Proprio non capisco! Mamma, cosa sta succedendo? Dai, muoviti! Che succede a papà? La mamma resterà proprio qui! No, non lo farà! Per favore, non lasciarmi sola con loro! Silenzio! Smettila di parlare, piccola marmocchia frignona! D'ora in poi sarò io, sua madre! Ma io? Beh, è tutto! Ora vai nella tua stanza! Non posso credere che papà ci abbia fatto questo! Oh, mamma, mi manchi tanto! Buon compleanno, Veronica! Compi 15 anni oggi, tesoro! Buongiorno! Oh no, di nuovo lei! Beh, hai già espresso il desiderio! Dato che sono tua mamma, prendo il primo assaggio! Oh, mi ha rovinato la torta! Ho cambiato idea! Oh, chi potrebbe essere? Ciao, ho portato un regalo per Veronica! Oh, è così carino! Ehi, prendi! Preso! A cosa mi serve un limone? Oh, non posso credere a quanto tu sia ingenua! Bene, vediamo cosa abbiamo qui! Un iPhone nuovo? Non male! Penso che lo terrò io! E quella insignificante non lo saprà mai! Questo è il peggior compleanno di sempre! La tua mamma ha un regalo per te? Oh, grazie! Potrebbe essere... Un vecchio iPhone rotto! È uno scherzo! Non è giusto! Io ne ho preso uno nuovo! Oh, tesoro, non essere triste! Cosa? Oh, lo sapevo! Questo è il telefono della mia matrigna malvagia! Guarda, papà è suo! Silenzio! Oh, tesoro, pensi alle cose più stupide! Ok, basta! Sono stanca! Dennis! Sì, tesoro! Mi occuperò subito della tua pedicure! E fai in fretta, capito? Qualunque cosa tu dica, mia regina! È semplicemente orribile! Oh, che puzza! E quanto a te? Mi farai vento! Cosa? Non esiste! Oh, davvero? Meglio non discutere con me, tesoro! Bene, bene, ok! Ecco, va meglio! Oh, potrei passare l'eternità così! Stai dormendo o cosa? Muovi le spalle! Non posso credere ai miei occhi! C'è davvero qualcosa che non va! Oh, sono esalta! Oh, oh! Cos'è? Frullate di sangue! Ho davvero schivato un proiettile! Dormi, mia cara! Sogni d'oro! Sparisci! Oh, assolutamente no! Beh, immagino che dovrei lasciarla dormire, ma... Oh, la mia mamma mi manca così tanto! Oh, chi è? Mamma, ciao! Ciao, tesoro! Puoi farmi entrare? Certo! Oh, tesoro! Finalmente posso abbracciarti di nuovo! Ho quasi dimenticato! Voglio che guardi questa foto! Non ci trovi niente di strano! Sì, assolutamente! Ho visto alla mia matrigna un paio di enormi zanne! Dobbiamo raccogliere altre prove! Sì, facciamolo! Non possiamo perdere altro tempo! Andiamo! Vi tengo d'occhio! Ok, Veronica, inizia a cercare qualcosa di sospetto! Perché non guardiamo nell'armadio? Ah, che orrore! Da dove vengono tutte quelle sacche di sangue? Dovrei fare una foto! Chi è là? Sembra che non sia niente! Oh, ma... Erano proprio qui! Andiamo via, tesoro! Oh, quelle sciocche mortali! Aspetta, l'hai sentito? Penso che il rumore provenga da lì! Guarda! Cosa c'è laggiù? È una bara! Ci sono tanti pipistrelli! Siamo riusciti a schivarli a malapena! Che strano! Dov'è finita la bara? Beh, almeno abbiamo trovato degli indizi! Ma cosa significano? Ok, ragazzi, non possiamo farcela senza di voi! Diteci nei commenti chi potrebbe essere la mia matrigna! È una vampira! Grazie per l'aiuto! Mistero risolto! Beh, certo che sono una vampira! Mamma! No! Ehi, lasciami andare! Sì, come no! È ora che tu venga a conoscenza del mio piano sinistro! Non lascerò mai la tua casa! E farò in modo che Dennis diventi il mio fedele servitore! E per quanto riguarda Veronica, inizierà a trattarmi come la sua vera mamma! Appena la morderò, insieme saremo la perfetta famiglia di vampiri! No, non lascerò che accada! Aspetta, cosa le sta succedendo? Oh no! Sto invecchiando di nuovo! Aspetta un attimo! Non abbiamo appena scoperto che è una vampira? Significa che è ora di prendere in mano la situazione! Paletti di legno, aglio e luci solari! Giusto! Salverò la mia vera mamma, costi quel che costi! Faresti meglio stare attenta, sanguisuga! Oh, non posso credere ai miei occhi! Sta bevendo il sangue di papà e sta diventando più giovane! Mmm, delizioso! Mi sento già meglio! Vediamo se ti piace questo! Ehi, smettila subito! Papà, papà! Riprenditi! Per favore, papà, ti prego! Sei in grossi guai adesso! Oh, vedremo! Oh, l'aglio! No! Prendi questo, mostro! E' davvero finita per me! Mi sento davvero affamata! Portami del cibo! Ascolto! E obbedisco! E non farmi aspettare! Oh, dai, apriti! Oh, perché non semplicemente? Ottimo, dovrebbe funzionare! Oh, non ce la faccio! Mi arrendo! Ho davvero bisogno del vostro aiuto! Mettete mi piace a questo video e la gabbia si aprirà! Non posso farcela senza di voi! Wow, siete stati di grandi aiuto! Grazie mille! Incredibile! Ha fatto tutto quello che aveva detto! Ha fatto tutto quello che aveva detto! Dennis ora è il suo servitore! E anche la mia Veronica! Il suo piano sinistro è stato realizzato! Devo salvare la mia famiglia! Ehi tesoro, sono io la tua mamma! Oh, cosa ti ha fatto? Oh, mia povera Veronica! Ti amerò sempre! Oh, sei tornata alla normalità! Allora questo significa... Ehi, Terra chiama mamma! Ho capito! Le mie lacrime possono annullare l'ipnosi! Bene! Allora abbiamo un piano! E so esattamente cosa serve per farti piangere! Cipolle! Facciamolo! Andiamo, andiamo! Solo una lacrima o due! Oh, mi stai prendendo in giro! Lo so! Guardiamo la registrazione del tuo matrimonio! Oh, eravamo così giovani e felici! Ottimo! Ha funzionato! Dai mamma, dai! Beh, sono abbastanza... Oh, assolutamente sì! È ora di riportare indietro il papà! Ehi, tu! Dennis, vai a prenderli! Questo è un ordine! Spero che funzioni! Siete finite! Wow! Wow! Cosa sta succedendo? Papà, sei tornato alla normalità! Oh, grazie a Dio! Cosa? Non permetterà che ciò accada! Sprigati, dobbiamo fermarla! Spero che tu abbia voglia di prendere un po' di sole! Oh, atterraggio morbido! Ed ecco il mio spuntino mattutino! Il sangue è la miglior colazione che ci sia! Dottoressa, abbiamo un'emergenza! Oh, va bene! Entrate e mettetevi comodi! Puoi dirmi se è maschio o femmina? Bene, vediamo! Oh, ciao piccolo gattino! Cosa? Non può essere! Bene, ti presento il tuo bambino! Penso che tu abbia sbagliato, dottoressa! Oh, giusto, risolviamo! Ciao, mamma! Oh, hai visto, Chat Noir? Oh, grazie mille! Sei un vero toccasana! Grazie! Tesoro, stai bene? Dottoressa, mi stai ostacolando! Cosa mi hai detto? L'amore della mia vita è in pericolo! L'unica che dovresti amare... Sono io! Cosa? Mi sento già meglio! Era solo nausea mattutina! Chat Noir? Stai bene? Dai, andiamo a casa! Non ho tempo per questo! E la nostra bambina? Non farlo, papà! Questo è un addio al Ladybug! Hai fatto la scelta giusta, Chat Noir! Oh, per favore, non lasciarci! No! Torna da noi! Ti prego! Chi proteggerà la nostra città adesso? È tornato! Ladybug? Chat Noir? Ehi! Non dire il suo nome! È un traditore! Oh, oh! Sembra che abbia scelto il momento sbagliato! Un traditore! È un cattivo! Volevo solo congratularmi per la gravidanza! Comunque, ci siamo ufficialmente lasciati! Ok, Ladybug, niente panico! In realtà, mi ha abbandonata! Chat Noir e Ladybug si sono lasciati ufficialmente! Sono loro! Quei traditori! Eh, spegniamo e basta, ok, Ladybug? Andiamo, andiamo! Va bene, lasciamo perdere! È come se non fossimo mai stati innamorati! Oh, sono così affamata che potrei mangiare un essere umano intero! Ci penso io, amore mio! Sbrigati, palla di pelo! Buon appetito, mia regina oscura! Pizza, veramente? Oh sì, quella roba è deliziosa! Ho in mente qualcosa di più gustoso! Stai fermo, piccolo! Ma come hai fatto? Ops, non volevo! Oh, penso di aver bevuto un po' troppo! Oh, mia signora! Sei così sinistra e sanguinaria! Bravo, gattino! Al lavoro! Ehi, aspetta! Hai frainteso! Ciò di cui ho bisogno adesso è una manicure! Lascia fare a me! Questo colore rosso si abbina ai tuoi occhi! Ko'i Pua? Davvero? Dovresti dimenticarti di Ladybug! Sei tu l'unica persona che potrei mai amare! Ok, basta! Ma perché, amore mio? Siediti lì e pensa a quello che hai fatto! Ok, Ladybug, dobbiamo risolvere questo problema! Oh, aspettavamo ospiti! Consegna espressa vampiresca! Ma non abbiamo ordinato nulla! Veloce, paga! Assolutamente no! Questa è la tua pizza! Ora dammi i miei soldi! La nostra pizza! I tuoi soldi! Ma questa pizza è davvero cara! Una pizza davvero costosa! April, sei sicura? Ehi, aspetta! Sono i miei soldi! Potete dirmi cosa sta succedendo qui? Sono davvero confusa! Ditemi cosa succede nei commenti! Ah? È sotto l'ipnosi del vampiro! Oh no! In tal caso dobbiamo sbarazzarci del vampiro! E ora, addio! Svegli, amica! Sei ipnotizzata! Va bene, cosa devo fare? Oh, penso di avere un'idea! Potere di Ladybug! Oh, cos'è successo? Ho solo la stupida ipnosi dei vampiri! Aspetta! Penso di aver capito adesso! Chat Noir deve essere stato ipnotizzato dalla vampira! Oh no! Questo è semplicemente terribile! Ma sono sicura che riusciremo a far risvegliare Chat Noir! Lo scopriremo in pochissimo tempo! Ci intrufoleremo nella sua tana! Non potrà nascondersi da te! Le insegneremo a non scherzare con noi! E poi voi due tornerete insieme! Ma prima dobbiamo fare un po' di allenamento! Faresti meglio stare attenta, cattiva! Ti è piaciuto? Potresti anche arrenderti adesso! Il mio yo-yo non mi delude mai! Non dimenticare le contromisure a base d'aglio! Ok! Sono pronta! April, stai esagerando! Bene Chat Noir si ricorderà sicuramente di questo! Allora April, sei con me? Certo che sì! È una sorpresa davvero speciale per quella vampira! La nostra intelligenza dice che questa è la tana della cattiva! Seguimi! Non preoccuparti Ladybug, ti copro io! Cos'è tutto questo puttiferio? April? È aperto! Allora entriamo! Facciamolo! Questi sono per te, amore mio! Sembra che abbiamo ospiti oggi! È finita per te, cattiva! Sei circondata! Puoi farcela, April! Fai quello che devi, Chat Noir! Non riuscirai a superarmi! Oh, che perdente! Ora tocca a te, Ladybug! Ogni tuo desiderio è un ordine, mia padrona oscura! Ma resti meglio starci lontano! Chat Noir, stai commettendo un errore! Per favore, non fare niente di stupido! Attento, papà! Oh, stai bene, gattino! Questa è la fine per te, Ladybug! Non ti permetterò di farle del male, succhia sangue! Prendi questo! È aglio! Svegliati, amica! Riprenditi! La nostra missione è stata un disastro! Dobbiamo andarcene di qui! Torneremo! Oh, cos'è successo? Questo sembra tutto così sospetto! Una bambina! Sì, stavamo per avere una bambina! Oh, non posso credere che mi abbiano fregata! Cosa? Chat Noir, smettila! C'è solo una persona che dovresti amare! Sono io! Per favore, Chat Noir, torna da me! Sono sicura che penseremo a qualcosa! Eccoti, Ladybug! Spero che tu sia pronta per la resa dei conti finale! Questo non è il momento migliore, Papillon! Wow! Stai per avere un bambino! Oh, cucci, cucci, cu! Fai sul serio? Faresti meglio stare lontano! Oh, questo non è giusto! Chi è stato? E cosa sta succedendo? Ladybug e Chat Noir erano innamorati, ma poi è arrivata lei all'improvviso! Quello vampiro ha lanciato un incantesimo su Chat Noir! Io ora Ladybug è tutta sola! Dobbiamo salvarli, Papillon! Va bene, ragazzi, dovrei davvero aiutare Ladybug? Ditemi cosa ne pensate nei commenti! Bene, bene, capisco! Ok, allora aiuteremo Ladybug a riavere Chat Noir! Troverò un modo per rientrare nella tana della vampira e sconfiggerla! E poi, quando sarà schiacciato e sconfitta, Chat Noir e Ladybug si riuniranno! Oh, lieto fine! Questo è un ottimo piano! Saremo una grande squadra! Allacciate le cinture! Andiamo! Ok, penso che questo sia il posto giusto! Oh, cosa ci fai qui? Sono sicura che la sconfiggerai in un batter d'occhio! Vola, mio piccolo Akuma! Una farfalla? Oh no, non farmi ridere! Oh no! Prendi questo! E questo! Oh wow! Che K.O. Oh! Sembra che abbia perso! Me ne occuperò io, mamma! Ho un piano! Pronti? Allora facciamolo! Quello vampiro non ha alcuna possibilità! Oh oh! Dobbiamo davvero farlo? Ehi! Aspettami! Dov'è il mio chanuar? Ancora tu! Chanoar! Ti salverò Ladybug! Battene da qui! Ora tocca a te Ladybug! Oh! Che male! Va bene gattino, te la sei voluta tu! Devo fare tutto da sola! Questo è un addio, Ladybug! Cosa stai cercando di fare, succhia sangue? E non tornare mai più! Presa! Ehi! Lasciami andare! Sei fantastica, Ladybug! E ora è il momento della parte più importante! Shhh! Mi dispiace, chanuar, ma devo farlo! Oh oh! Stai bene! Svegliati gattino! Dopotutto hai nove vinte ricordi! Non puoi lasciarci! Papà! Dovete aiutarci! Più mi piace ci manderete! Più chanuar diventerà forte! Ehi! Ha funzionato! Oh, chanuar! Mi dispiace tanto! Oh! Dove mi trovo? Chanuar! Sei vivo! Finalmente siamo tornati insieme! È così romantico! Ce l'abbiamo fatta! Ok, mi hanno battuta onestamente! Ma questa non è la fine per me! Ho ancora degli affari di cui occuparmi! Siete con me? Andiamo a dare un bello spettacolo a questi ragazzi! Ecco la signora Kate! L'insegnante più cattiva e malvagia della nostra scuola! Non tollerò i capelli tinti nella mia classe! Oh, sono nei guai! Signorina, cosa c'è di sbagliato nei tuoi capelli? È ora di prendersi cura di queste disgustose ciocche blu! Oh! Disgustose! Oh, e sapete una cosa? Anche il trucco è vietato! Oh no! Tutto tranne quello! Esatto, tesoro! Vieni qui! Per favore, signora Kate! Farò la brava, lo giuro! Certo che lo farai, mia cara, appena ti avrò ripulita! Quello straccio è così disgustoso! Il mio trucco, no! La campanella, finalmente! Aspetta un attimo, giovanotto! La mia testa! Questo è quello che succede a correre a scuola! Che se lo fa malissimo! Oh no, non farlo! Non si piange nella mia classe! Invece, la gentile e premurosa signora Polly è l'esatto opposto della signora Kate! Buongiorno, ragazzi e ragazze! Chi è pronto per il test? Oh cielo, tutto tranne il test! Beh, in tal caso, ho un'idea migliore! Oh, adoro quel gioco! Super! Pensi di avere le carte in regola per vincere questa sfida costruendo la faccia più divertente? Scopriamolo! Forza, May! Puoi farcela! Vai, April! Vai, April! Vai! Sembra che questa volta April abbia avuto la meglio! Congratulazioni! Sei stata bravissima! Super! Cici, wow! Ho perso anche se ho lavorato duramente! Ecco una deliziosa ricompensa per la vincitrice! Grazie, signora Polly! Su, coraggio! Ho un premio di consolazione anche per te! Ehi, e noi! Oh, non pensare che mi sia dimenticata di voi! Oh, signora Polly, sei la migliore! Oh, una risata di bambini felici? Assolutamente no! Mangiano dolci in classe? Non esiste! Prendete questo piantagrane! Cos'era? Oh, qualcuno ci aiuti! Mettetevi in salvo! Oh, questa è musica per le mie orecchie! Oh, ed ecco la nostra piccola signorina perfettina! Ciao, scontrosa! La sfida tra l'insegnante cattiva e quella buona inizia ufficialmente ora! Non ho finito con te! Sembra che le cose si stiano facendo romantiche nella mensa della scuola! Oh, è così carino! Sembra che Jason si è innamorato di Veronica! Andiamo, Jason! Sei coraggioso e confessa i tuoi sentimenti! Sai, anche tu mi sei sempre piaciuto! Guarda che schifosa roba da innamorati! Diluiamo quest'atmosfera sdolcinata con un po' di aglio! Cosa? Baciarsi in pieno giorno? Divertitevi! Cos'ha quell'odore? Non ne ho idea! Distanziamento sociale! Non sono più permessi i baci! E basta romanticismo! Vi tengo d'occhio! Cosa pensi di fare? Non puoi trattare i nostri studenti in questo modo! Tengo d'occhio anche te! Attenzione! Oggi faremo un test! Non tollererò alcun imbroglio! Oh, vediamo cosa abbiamo qui! E mi dispiace tanto, signora Kate! È stato un incidente! Veronica Williams! Hai lì il telefono? Wow! Originale! Pensavi davvero che non l'avrai notato? Beh, ti è andata male! Oh no! Il mio iPhone! Cavolo! Sembra potente! Ehi! Cos'è quello? Beh, questo è inaccettabile! Giovanotto, sei in grossi guai! Oh no! Così va meglio! Ecco il tuo test! Le risposte! Wow! La signora Kate vede tutto! E tu prendi una F per averli aiutati a copiare! Mamma io! Non pensare che mi sia dimenticata di te! Tutto tranne una F! Oh, guardati mentre ti concentri così tanto! Hai fallito il test! Ti do una F! Devo dire che sono molto delusa da tutti voi! Oh, la campanella! Cosa sta succedendo? Qualcuno ha bloccato il bagno della preside? In un modo o nell'altro dovremmo sistemare la cosa! Speriamo solo che la signora Robert sia bene! Oh, è molto più difficile di quanto pensassi! Oh! Eccoci qua! Molto meglio! Apriti! Ricordo questo trucchetto di TikTok! E così la porta è aperta! Signora Robert, cosa ti è successo? Per favore! Devi aiutarmi! Sto arrivando! Questi nodi sono complicati! Mantieni la calma, signora preside! Abbiamo quasi finito! Oh, grazie! È la lettera di licenziamento della signora Kate! Incredibile! Dimenticalo e basta! Inoltre meriti una ricompensa per avermi salvato la vita! Oh, che piacevole sorpresa! Oh, tutto per me! Oh, e puoi prendere anche il mio dipinto preferito! È molto generoso da parte tua! Non preoccuparti! Qualunque cosa per la mia salvatrice! Che persona meravigliosa! Spero che siate pronti per un'entusiasmante lezione di chimica! Mescolate queste due sostanze chimiche e osservate la reazione! Ta-da! Cici wow! Bello! È un messaggio! È Jake! Mi ha scaricata via telefono! Oh, tesoro! Cosa c'è che non va? Jake mi ha lasciata! Mi ero appena fatta questo nuovo tatuaggio! Oh, poverino! Cosa? Non esiste! Ho lo stesso tatuaggio! Non posso credere che ci abbia preso in giro! Fortunatamente Polly sa come riparare un cuore spezzato! Ci tireremo sul morale con un pigiama party! Wow! Questo è veramente cool! Un po' di gelato! E ora iniziamo il restyling! Maschere, eh? Mi piace l'idea! Ehi Dan! Vuoi provare? Cosa? Scusa, non era una richiesta! Guardalo! Super carino! Questi fiocchi ti stanno davvero bene! Bene, bene, bene! Ho appena beccato qualcuno che si diverte! Basta! L'avete voluta voi! Devo fare silenzio! Non posso credere a quello che stanno facendo questi ragazzi! E' ora di dargli una lezione! Ci vorranno solo un paio di gocce! Ora andiamo via di cui! Esci da lì! Fammi entrare! È un'emergenza! Andiamo, andiamo! Oh, mai un momento di pace! Abbiamo una nuova regola, signorine! Non più di tre secondi a testa sul water! Oh, come dici tu, signora Kate? Va bene, allora entrate! Uno, due, tre! Tempo scaduto! Mi sento già meglio! Va bene! Uno, due... Forza, forza! E tre! Ma signora Kate, non ho ancora finito! Vai a lezione! Veloce! È incredibile! Come osi abusare dei nostri studenti in questo modo! Non meriti di essere chiamata insegnante! Va bene, ora mi hai fatto davvero arrabbiare! Qualcuno mi aiuti! Via dalla mia vista! Non permetterò a nessuno di criticare i miei metodi di insegnamento! Assicuriamoci che la signora Polly non interferisca più! Perfetto! Mio Dio! Cosa farò adesso? Oh, che giornata meravigliosa! Aspetta un attimo, perché questo bagno ha chiuso a chiave? Sembra che ci sia qualcuno dentro! Meno male che porto sempre con me una chiave di riserva! Grazie per l'aiuto! A causa di quella perfida Kate ho dovuto passare lì la notte intera! Posso aiutarti a vendicarti di lei! Oh, davvero? Bene, signora, buona giornata! Oh, sì! Sono sicura che lo sarà! Veloci! Vi restano solo cinque minuti! Stai lavorando troppo, Kim! F! Ma non ha alcun senso! E la tua punizione è... La ghigliottina! No! Per favore, non farlo! Lasciami andare! La prossima è la nostra migliore allieva, Giulia! Vediamo! F! E la punizione è... Niente! Questa volta sono stata davvero fortunata! Cosa hai da sorridere? Sbrigati e inizia a pulire i bagni! Ma, 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 ma io non... E assicurati di fare un lavoro accurato! Cavolo, mi sento davvero bene con me stessa in questo momento! Ti diverti a fare la prepotente con gli indifesi, eh? Allontanati da me! Non puoi scappare dal tuo destino! Vedremo! Prendi questo! E tutto quello che sai fare... Non farmi ridere! Cosa mi farai? Oh, niente di illegale! Non preoccuparti! Che cosa vuol dire? Adesso sei in trappo, la mia cara! Ehi! Lo dirò al sindacato! Bene, ragazze! Divertitevi! Non osate toccarmi! Vi sto avvertendo! Con un piccolo aiuto della magia, anche l'insegnante più cattiva può essere trasformata in una donna dolce e gentile! Wow! Non posso ringraziarvi abbastanza! Ma questo è troppo! Dai un'occhiata al tuo nuovo look! Incredibile! Sembro Barbie! Oh, mia bella signora! Per favore, esci con me! Questa roba è pesante! Il posto è qui! C'è qualcuno a casa? Ehi! Che succede? Divertiti, tesoro! Non l'ho ordinato io! Hai ordinato altra roba, Kate? Oh, guarda quelle orecchie! Sembrano davvero affettitose! Siete la mia mamma e il mio papà! Certo che sì, cara! Tesoro non è una cosa carina da fare! Dobbiamo adottarla! Wow! Bene, Kitty, benvenuta nella nostra famiglia! Questa sarà la tua casa d'ora in poi! Ti piace? Cielo, sono ancora affamato! Ho appena pensato a una ricetta fantastica! Tutto ciò che serve sono solo un po' di sale e pepe! Delizioso! Assolutamente no! Questa roba è ossuta! Si comporta in modo strano! Non badare a tuo padre! Ora dormi, tesoro! E dovrai dormire qui! È così scomodo! Perché non aggiungiamo un po' di rosa? Ora va meglio! È ora che mi metta comoda nella mia nuova tana! Non c'è un po' troppo rosa, Kitty? Beh, possiamo parlarne domani! Sogni d'oro a tutti! È esploso un unicorno qui dentro! Lascia che nostra figlia dorma in pace! Wow, ora siamo finalmente soli! È un aspetto delizioso! Chi c'è? Devo essermelo immaginato! Va bene, facciamolo! Wow, è così strano! Rubi i miei snack! Te ne pentirai! Cattiva piantina, cattiva! Non aspettavamo nessuno oggi! Chiaramente tua figlia non è un vampiro! È l'ispettore dei vampiri! La nostra ragazza è in pericolo! Dobbiamo salvare Kitty! Forse dovrei morderla! Non pensarci nemmeno! Pensa, Kate, pensa! Tesoro, cosa hai in mente? Non sembra un ottimo nascondiglio! Ah, non pensarci nemmeno! Ho un'idea! Sbrigati e nasconditi qui! Ok, ci siamo! Entra! Tutta la casa puzza di gatto bagnato! E cos'è? Segni di artigli, eh? Aha! Sono sulla strada giusta! Oh no! Tutto tranne quello! Sembra che qualcuno stia perdendo pelo qui, eh? Una lettiera? È sicuramente sospetta! Ora vediamo che odore ha! Oh! Voi due mi state ovviamente nascondendo qualcuno! Per favore, signore! Siamo dei bravi vampiri rispettosi della legge! Come osi invadere la nostra casa! Facciamogli vedere di cosa siamo capaci! Lo sapevo! State nascondendo un gatto! Oh! L'abbiamo battuto! Sei un genio, Kitty! Ci hai davvero salvati! Ottimo lavoro! Benvenuta nella nostra scuola di mostri! Prima passiamo al rilevatore! Il rilevatore? Mercoledì, piacere di averti con noi! Buona giornata! Ricordati di passare attraverso il rilevatore di mostri, Frankie! Bene, studia, ok? Voglio studiare qui, mamma! Allora ti metterò un paio di zanne! Quasi finito! Ora le dimmo un po'! Wow, stai benissimo, tesoro! Ora vediamo se funziona! Scusa, tesoro, ma non sembri un mostro! Mia figlia è un bambino in tutto e per tutto! Beh, le sue zanne sembrano in ordine! Passa e vai in classe, Kitty! Divertiti, cara! Ciao! Wow, ti piacerà qui! Posso sedermi qui? Oh, quindi questo posto è occupato, eh? Allora io mi siedo qui! E diventiamo! Che è caduta questa? Lasciamoci a me! Oggi vi insegnerò come spaventare le persone! In realtà è molto facile! Boo! Ok, Lori, sei la prima! Eh, lo spaventerò di brutto! Lasciatemi andare! La cena è servita! Ottimo lavoro, Lori! Mi sta venendo fame! Non è il momento, adesso torna a sederti! Ora tocca a te, Frankie! Oh, è un piacere conoscerti! Hai fatto un ottimo lavoro, Frankie! Kitty, vediamo come te la cavi! Vabbè, visto che insisti! Oh, i tuoi baffi sono così carini! Kitty almeno prova a spaventarlo! Kitty, la tua zanna! Ops, è be... È imbarazzante! Esci dalla nostra scuola! I non mostri non sono ammessi! Ora vattene! Non posso credere che ci abbia mentito! Immagino che questo sia un addio! Oh, non ti lascerò andare! Ehi, quella è la nostra Kitty! Ti ho presa, cara! Stai bene? Mi hai salvato la vita, mamma! Dobbiamo proprio farlo? Oh, non pensarci nemmeno, Adam! Io volevo solo dare una mano! Torniamo a casa! Ah, che bel tempo per un picnic! Sì, è perfetto! Mi mette in vela di un panino! Ora me lo faccio! Mmm! Questa roba sembra così buona! Oh, la ricetta dice di aggiungere anche del peperoncino! Bene, è ora di mangiare! Oh, la mia bocca è in fiamme! Papà, non ti ricordi che sei a dieta? Perché non giochiamo? Oh, adoro il frisbee! Giocate, eh! Non fa per me! Prendi, tesoro! Whee! È divertente! Eh, sono piuttosto brava! Oh, il sole! Qualcuno mi aiuti! Oh, guarda che casino! Anche qui! Non te la caverà, immondizia! Nessuna sporcizia mi sfugge! Sono qui, ragazze! Oh, siamo molto dispiaciute, papà! Ti senti bene, caro? Oh, sei così disordinato! Risolviamo! Oh! E questo è davvero carino! Perché non andiamo al cinema? Tesoro, manca molto alla cena! Sto morendo di fame! Ah, ecco che arriva il cibo! È ora di mangiare! Tuo padre ha fame, Kitty! È molto affamato! Papà, per favore, fermati! Ah, sì? Allora reagirò! Sono tornata! Tesoro! Mi ha graffiato dappertutto! Per favore, nascondi due artigli! I gattini buoni non graffiano i genitori! Ho qualcosa per te, tesoro! Oh, grazie! Sangue dietetico! Non bevo quella roba! È per te, piccola! Eh, sangue! No, grazie! Preferirei un po' di latte! Hai ragione! I bambini devono bere il latte! Aspetta un momento! Qualcuno ha ordinato del latte? Ecco qua! È così dolce da parte tua, grazie! Oh, non avere tanta fretta! Oh, che deliziosa colazione! Grazie! Signore, sei in arresto! Non posso dimenticare di prendermi cura delle mie zampe! Ora vediamo cosa c'è in tv! Papà! Una donna è stata appena attaccata da un vampiro! Ma la polizia è arrivata in tempo! Il cattivo è già in arresto! Dobbiamo fare qualcosa! Ti salverò, papà! Non ho fatto niente di male! Avevo solo fame! Fatemi uscire! Ok, via libera! Papà, eccoti! Kitty, sei tu! Devi tirarmi fuori di qui! Sta arrivando! Oh, dammi quelli! Intendi questi? Sì, affrettati ad aprire la cella! Oh, sei meravigliosa, tesoro! Oh, i pantaloni! Tesoro, no! Non solo quello di cui ho bisogno! Perché non l'hai detto prima? Essere un genitore è così difficile! Kitty, che cos'è? È questa che intendevi, giusto? No! Oh, ho un'idea! Facciamolo, Kitty! Ho bisogno di quella chiave! Miau! Dai, puoi farcela! Ora sei libero, papà! Oh? Chi diavolo sei? Girati, Kitty! Sei in pericolo! Miau! Oh, ma guarda questo simpatico gattino! Sei tutto solo qui fuori! Speriamo solo di non incontrarci mai più, agente! Il prigioniero è scappato! Oh, sono così annoiata! Forse andare ad un appuntamento mi tirerà su di morale! Tu sei perfetto! Ok, vado a incontrare il mio vero amore! Kitty? Adam, dove sta andando? Scopriamolo! Penso che stia andando ad un appuntamento! Seguimi! Dove sei, mio principe? Non possiamo farci vedere! Tu sei Kitty, vero? Mi chiamo Dennis! Questo appuntamento sta per diventare un disastro! È ora di farti un restyling! Oh, stai bene, Dennis! Kitty, questi sono per te! E tu? Allergica ai fiori, eh? Non preoccuparti, ci penso io! Ecco l'alternativa all'allergica! Ti piace, Kitty? Adoro il pesce fresco! A proposito, stai benissimo oggi! Oh, penso che dovrebbero baciarsi! È un'ottima idea, tesoro! Prenditi il resto della giornata libera! Chi vuole qualcosa da bere? Ops, sono molto dispiaciuto! Devi aiutarlo, signorina! Beh, divertitevi, piccioncini! Kitty, sono innamorato di te! Il piano ha funzionato perfettamente! Aspetta, non stai dimenticando qualcosa, amico? Non puoi fare queste cose senza uno spray per l'alito! Ora vai! Smettiamola di disturbarli, Adam! Dai, dovremmo andarcene! Buon compleanno, tesoro! Quali desideri esprimerai? Essere un vampiro è sicuramente fantastico! Mamma, papà, dove siete? Sto arrivando! Ti stiamo aspettando, tesoro! Sì, sì, ci sono quasi! Quasi! Vai, Adam, vai! Arrivo! Sarò da voi tra un minuto! Cosa facciamo adesso? Oh, che ne dici di questo? Non riuscirò mai a capire questo gioco! Alla fine ce la farò! Continuiamo la festa, tesoro! Esprimi un nuovo desiderio! Oh, i compleanni sono i migliori! Kitty, perché ci hai messo così tanto? Buon compleanno, papà! Ti ho portato un regalo molto speciale! Oh, il mio preferito! Grazie, tesoro! Wow, non posso credere che abbia funzionato davvero! Uh-uh, sono di nuovo giovane! Grazie mille, papà! Adesso è ora che me ne vada! Oh, crescono così in fretta! Oh, ho!